E' calcio d'estate, ma la prima al Manuzzi davanti ai propri spettatori, circa 2000, promette bene, al di là della grande soddisfazione di essersi aggiudicato ancora una volta in memoria, intestato al presidentissimo Edmeo Lugaresi. La terza edizione del Memorial, voluta per ricordare il presidente delle due promozioni Serie A, è andata in archivio sabato sera contro il Genoa e il Cesena si è imposto con il punteggio finale di 2-1 al termine di una partita che ha messo in evidenza il gioco brioso ed offensivo voluto dal nuovo tecnico Massimo Drago. I bianconeri sono passati in vantaggio con Cascione al nono che ha concretizzato un'invenzione di Sensi, di prima e di esterno destro, a liberare il centrocampista davanti alla manna. Al trentesimo, sempre Sensi, il più ammirato nel corso dei 90 minuti, l'ex sanmarinese con una punizione magistrale ha mandato la palla ad infrangersi sulla traversa. Nella ripresa il Cesena è andato vicino al raddoppio con Rossetti che di testa ha messo sopra la traversa un lob di Morlina. Il raddoppio per i bianconeri è arrivato poi al quartodicesimo della ripresa. Il giovane centravanti ha seminato Burdisso e Izzo e ha scaricato sotto la traversa un destro violento e imparabile. Al venticinquesimo, la prima parata di Agliardi su Pandev che è andato in rete di lì a poco con un pallonetto a scavalcare lo stesso Agliardi. Un bel Cesena, una bella vittoria, ma una brutta serata. E' questo purtroppo il bilancio finale con il Cesena che deve fare i conti col grave infortunio occorso a Riccardo Improta al ventisesimo del primo tempo con il movimento innaturale della rotula. A rischio i legamenti del ginocchio. Il giocatore è già a Roma Villa Stewart in attesa del probabile intervento chirurgico. La telecronaca della partita andrà in onda su questo canale a partire dalle ore 22.